Buongiorno Buongiorno Mamma mia che caldo È davvero? Allora giardini, Indro, aspetti che controllo che... Cinque giornate Perfetto Le posso fare una domanda personale? Da quanto tempo lei non parla con sua mamma? Oh mamma perché? Una settimana quasi Le dico una cosa Ho deciso di regalare la corsa Se lei durante questo tragitto parlerà con sua mamma Però se smette di telefonare Io la lascio dove siamo arrivati Va bene D'accordo Cioè tutte le volte che la chiamo risponde sempre Adesso non risponde Ecco Mamma Oi Senti un po' Come stai? Ho un problema con... Con le gatte Che ora sono io? Senti da Sardegna Allora raccontami un po' Tanto che siamo... Eh... Perché anche per la nonna capito? Cioè... Non lo so L'avocado non ti piace? È una delle cose più buone del mondo Pronto? Niente Niente È morto il telefono Eh... Hai da fare? Aspetta un attimo Perché... Non ti chiamo mai Quindi... Chiama tua madre perché io devo assolutamente arrivare in stazione Tu fai un'insalata, no? Metti la rughetta Grazie intanto... Di tutto quanto Sì, no? Anche... Insomma... Della mano per il muto Tutte quelle robe lì Vabbè mamma Sei fantastica lo stesso Così Mamma Comunque... Ti voglio bene Io voglio già farti un auguri con tutto il cuore Tu sei la persona più importante della mia vita Dai mamma, ci sentiamo allora Ok... Ah, una cosa, una cosa, una cosa, una cosa, una cosa Ti voglio bene